Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. L'Assemblea annuale è quella di ConfCommercio Vicenza che si è svolta mercoledì scorso, specchio di un anno inevitabilmente segnato dall'emergenza Covid-19, a cominciare dalle modalità di svolgimento, vale dire online, con il presidente Sergio Rebeca, il direttore Ernesto Boschiero e i componenti dell'Assemblea collegati a distanza. L'emergenza economica derivante da quella sanitaria da Covid-19 è tornata più volte alla ribalta nel corso di questo importante appuntamento della vita associativa. Da un lato la fotografia è impietosa del contesto in cui stanno lavorando le imprese del terziario, con una tale di sacrifici come evidenziano le previsioni dell'ufficio studi di ConfCommercio, che parlano di un meno 12% di consumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ed un pille in caduta di 10 punti percentuali, ha affermato il presidente Sergio Rebeca. Dall'altro le direttrici, che come ha più volte rimarcato, non vanno perse di vista. Lo sviluppo del digitale è prima di tutto. Il lavoro, ad esempio, si è spostato per molte realtà della pubblica amministrazione e dei servizi sullo smart working e le limitazioni degli spostamenti hanno spinto la fruizione di tanti servizi attraverso l'online. Non solo, oggi la relazione vale più dell'oggetto, del prodotto, e ciò significa che si deve tenere viva la comunicazione con il cliente. Quella della comunicazione digitale è un ambito in cui ConfCommercio Vicenza ha investito importanti risorse per accompagnare le aziende ad utilizzare internet e i social media, attraverso soprattutto specifici corsi di formazione e istituendo lo sportello SPIN per la consulenza gratuita agli associati in materia digitale. Se quella del digital è una rivoluzione globale, che le imprese del terziario devono cogliere, anche a livello locale, sono all'orizzonte altri cambiamenti importanti. Il riferimento in questo caso è all'arrivo della TAV, che cambierà la fisionomia di Vicenza, ha detto il presidente Rebecca, portando beneficio a tutto il territorio vicentino. Infine il presidente ha voluto evidenziare l'impegno straordinario della ConfCommercio di Vicenza nell'informare e accompagnare le aziende associate durante l'emergenza sanitaria, con importanti risultati, a cominciare dall'erogazione dei ristori, anche se gli aiuti non sono ancora sufficienti, agli stanziamenti della Camera di Commercio di Vicenza per lo sviluppo, sino ai 76 comuni che hanno risposto all'appello dell'Associazione di abbassare i tributi locali alle imprese in difficoltà. Ma non ci basta, serve di più considerare le prospettive future, ha subito precisato il presidente Rebecca, delineando l'altro fondamentale tema su cui l'Associazione è impegnata a tutti i livelli, locale e nazionale, vale a dire la costante azione di sensibilizzazione istituzionale sulle difficoltà che stanno vivendo le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Un fronte su cui, ha assicurato il presidente di ConfCommercio Vicenza, siamo costantemente in pressing con il governo e di certo non molliamo. La nuova ordinanza del presidente della regione, Luca Zaia, è entrata in vigore alle 24 di venerdì 11 dicembre e sarà valida sino al 15 gennaio. Le novità sono che le attività di somministrazione di alimenti e bevande, e quindi bar e ristoranti, si deve svolgere dalle 11 alle 15 in maniera prioritaria, occupando i posti a sedere. Dalle 15 alla chiusura dell'attività, cioè alle 18, si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. La seconda novità riguarda la fascia di rispetto per gli over 65 al supermercato, che da sabato 12 dicembre è prevista dalle 10 alle 12 del mattino. Come già stabilito dai provvedimenti governativi, tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale e di impedire l'ingresso di ulteriori clienti, qualora questo fosse raggiunto. Il gruppo Barra Confcommercio del Centro Storico di Vicenza ha voluto testimoniare la propria avvicinanza al personale sanitario sempre in prima linea nell'emergenza Covid-19. Si è scelto pertanto di attivare attraverso il passaparola tra operatori una raccolta di prodotti alimentari, dai biscotti alle pizzette, i caffè, gli infusi, i panettoni, i cioccolatini e quant'altro, destinati a medici ed infermieri che operano nel punto tamponi della Fiera di Vicenza. Il materiale è stato consegnato mercoledì 9 dicembre dall'Associazione Obiettivo Ippocrate di Vicenza, che lo ha recapitato in fiera. L'8 dicembre è stata avviata in tutto il territorio nazionale la sperimentazione del piano Italia Cashless, che prevede la restituzione di parte degli acquisti pagati con moneta elettronica, mentre dal 1 gennaio 2021 diventerà obbligatorio adeguarsi alle nuove regole relative ai corrispettivi 7.0 e contestualmente avrà inizio anche la Lotteria degli Scontrini, il nuovo concorso legato allo scontrino elettronico che prevede premi per consumatori ed esercenti. Per fare il punto sulle novità e gli adempimenti che sarà necessario mettere in atto, sentiamo quanto ci dice Paolo Maran, responsabile fisco e tributi di ConfCommercio Vicenza. La Lotteria degli Scontrini è sicuramente un tema che sta riscuotendo grande interesse e anche grande preoccupazione per tutti gli associati. ConfCommercio ha messo sicuramente in campo una serie di servizi informativi, prima di tutto, anche i webinar che sono stati fatti e sono stati molto partecipati, sicuramente sono un punto di grande attenzione che abbiamo dato a questo argomento, e inoltre alcune attenzioni che deve avere anche il nostro associato in quanto possessore di registratori telematici, perché bisogna comunque fare qualche attività. L'attività prima è quella di adeguare il registro telematico, su questo bisogna essere molto chiari. L'adeguamento normativamente dovrebbe essere fatto al 1 gennaio 2021. Di per sé c'è nessuna sanzione se non viene fatto e l'agenzia delle entrate ha già comunicato che i corrispettivi telematici inviati con i vecchi registratori telematici sono ancora ritenuti validi anche per almeno i primi due mesi del 2021. E perciò non c'è nessuna corsa all'adeguamento da fare. Anche perché abbiamo fatto presente all'esecutivo che questo adeguamento costa ed è necessario, e questa è un'altra richiesta di ConfCommercio, che venga ampliato il credito d'imposta che è stato fatto l'anno scorso per l'acquisto e l'adeguamento dei registratori telematici anche a questo adeguamento che diventa e diventerà obbligatorio. Ecco, anche qua bisogna far presente che non ci sono sanzioni nel caso in cui l'esercente si dimostri nell'impossibilità o addirittura si rifiuti di provvedere a inserire il codice di lotteria che il consumatore finale consegna. È necessario sottolineare che il consumatore deve registrarsi attraverso il sito dell'agenzia delle entrate che è lotteria dello scontrini e ad avere il proprio codice lotteria. Con questo codice lotteria, che è un codice a barre o otto caratteri alfanumerici, è possibile presentarsi da coloro che hanno registratori telematici e richiedere la possibilità, prima di emettere lo scontrino, di partecipare a questa lotteria. E non è necessario per il consumatore dover conservare lo scontrino. L'otteria darà la possibilità di dare delle vincite, le estrazioni vengono fatte settimanalmente, mesilmente e annualmente. E ci sarà la possibilità di vincere e senza dover neanche controllare un particolare sito, un particolare elenco, perché sarà la stessa amministrazione finanziaria che comunicherà il vincitore tramite la raccomandata del ricevuto ritorno, tramite PEC se necessario, o tramite addirittura SMS, se inserito nel cassetto fiscale personale, a chi è destinato alla vincita di dover ritirare il premio. Cashback è un ristorno di parte degli acquisti che il consumatore andrà a fare nei negozi tradizionali, nei pubblici esercizi, perciò esclusi le vendite online e escluse quelle operazioni ripetitive, i conti correnti, i bonifici e quanto altro. Il consumatore deve registrarsi su una apposita app telefonica, deve registrarsi con le difficoltà che abbiamo riscontrato tutti. Evidenzio che c'è la possibilità per il nostro esercente di codare del credito d'imposta per le commissioni legate proprio a questi pagamenti che riceverai in via elettronica. Sono interessate tutte le aziende del commercio tradizionale che hanno un volume d'affari inferiore a 400.000 euro e il credito d'imposta sulle commissioni bancarie è del pari del 30%, è partito dal 1 luglio 2020. Ci stiamo avvicinando alle feste di Natale e sentiamo cosa ci propongono le macellerie del gusto della nostra provincia. Siamo andati alla Bottega della Carne di Carrè. Per il periodo di Natalizio le macellerie del gusto propongono due piatti. Uno è la faraona con del tastasale della crema di tartufo e una fesetta di spalla di vitello. La faraona va prima rosolata un quarto d'ora con un po' di soffritto e a piacere del vino bianco. Poi va messa in forno a 180 gradi per un'ora e mezza. L'ultimo quarto d'ora va scoperta e lasciata in forno. La fesetta di spalla è uguale, si fa rosolare un 10 minuti un quarto d'ora con del soffritto e sempre a piacere del vino bianco. In forno un'oretta un quarto, sempre coperta e l'ultimo quarto d'ora scoperta in forno. La faraona va servita con delle patate al forno e del vino rosso. La fesetta di spalla invece si può servire con della verdura cotta o del radicchio e sempre con del vino rosso. Noi delle macellerie del gusto ci teniamo ad avere la carne di qualità e cerchiamo di avere sempre la carne della nostra zona più possibile a chilometro zero. Ci troviamo una volta al mese per confrontarci, per trovare di nuove ricette, nuovi piatti e per avere una linea comune sulle nostre proposte. Per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento. A domenica prossima, arrivederci e buonissima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.